Il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, ha dichiarato è veramente un crimine politico con l'aggravante della crudettà la scelta del presidente della provincia Giuseppe Canfora di caricare ancora di rifiuti la città di Battipaglia, rendendola la pattumiera della provincia di Salerno. Una scelta intollerabile se si pensa che negli anni Battipaglia e la Piana del Sele sono state già fortemente penalizzate dalle scelte del PD, da Bassolino, fino a giungere a De Luca. I Battipagliesi, secondo Iannone, non meritano questo sadico accanimento. Hanno pagato un prezzo troppo alto per il rischio alla salute che stanno correndo e per il danno alle proprie attività agricole d'eccellenza. Il sindaco, che è autorità di protezione civile e sanitaria, deve impedire questo scempio con un'ordinanza e non fare così entrare i camion. Il governo nazionale, secondo il senatore, deve intervenire se non vuole essere complice. Già ho presentato un'interrogazione ai ministri Salvini, Costa e Grillo per i ruoghi della Nappi Sud e dello Stir, ma attendiamo un intervento risolutivo.